14 agosto 2019 abbiamo Alessia, Giulio e gli altri pronti anche loro per partire. Pronti per il decollo, va bene? Benissimo. Non è così? Se non è dietro, lo postate, lo puoi guardare anche su Instagram, se non è dietro a seguirlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.